Dopo anni di lavori e ristrutturazioni, la splendida Villa Bardini di Firenze torna a ospitare il museo dedicato a Pietro Annigoni, che riapre con una veste rinnovata proprio nel 25esimo anniversario della scomparsa del pittore. Cinque sale tematiche raccolgono circa 40 opere messe a disposizione dall'ente cassa di risparmio e provano a raccontare un Annigoni legato non solo ai ritratti che lo hanno reso celebre. La grande passione di Annigoni in realtà non era il ritratto, ma erano i paesaggi e soprattutto era l'affresco. Affresco che la fa da padrone nella prima sala del museo, quella delle grandi opere, che ospita anche il terzo dipinto del ciclo delle solitudini, mentre ai paesaggi è dedicata un'intera sala. Pezzo forte della sala delle meditazioni è invece la soffitta del torero. Se nelle altre opere riusciamo a cogliere un senso di una possibilità di salvezza in questo rapporto contrastato con la natura, ecco, in quest'opera questo senso, questa possibilità di salvezza assolutamente non c'è. C'è un uomo abbandonato a se stesso, c'è un profondo esistenzialismo. I ritratti in ogni caso non mancano. Nel nuovo museo trovano spazio le figure dei familiari di Annigoni come il padre, ma anche sconosciuti colti dal pittore in momenti quotidiani della loro vita, in attesa poi che dalla mostra all'ente cassa di risparmio ritorni un capolavoro come il ritratto della baronessa Stefania Von Corris, che prenderà il suo posto dal 6 gennaio proprio qui davanti a questa finestra.